ben ritrovati su review in you oggi vado a recensire insieme a voi questa borraccia portatile per abbeverare il vostro cane gatto animale domestico nei lunghi viaggi in macchina nelle passeggiate comprata su amazon ad un prezzo veramente basso e disponibile in diversi colori tra cui questi qua io l'ho presa di questo colore come vedete vi lascio il link in descrizione così non vi potete sbagliare ve la faccio vedere sono già andato a toglierla dalla confezione di cartone era anche all'interno di un sacchettino di plastica come vedete sono 350 millilitri la capacità c'è un foglietto di istruzioni è un piccolo cordino che si va poi ad attaccare qua vi permette di legarla ad uno zaino ad una cinta insomma è comodo e come materiali plastica dura bpa free così viene dichiarato e sostanzialmente non è grandissima la pala in cui poi viene diciamo defluisce l'acqua ma se ci pensate è simile a un palmo della mano quando si da da bere all'animale e quindi va benissimo anche perché alla fine a meno che abbiate un cane enorme riesce comunque a bere tranquillamente leccando l'acqua dalla questa apertura da questo forno mi metto a fuoco ma vi faccio vedere essenzialmente come funziona c'è questo bottone che fa da sblocca e blocca l'uscita dell'acqua quindi se io giro così abbiamo questo foro che è chiuso quindi anche se si schiaccia il bottone non si riesce a schiacciarlo e non uscire l'acqua mentre se si schiaccia da questa parte si sposta da questa parte schiacciando vi faccio vedere magari da vicino comunque schiacciando l'acqua riesce a scorrere cioè a uscire dal foro praticamente una valvola di sicurezza non so se riuscite a vedere come si muove ok semplicemente l'acqua per uscire deve si deve andare a schiacciare questo bottone poi l'acqua esce al di fuori vi faccio anche vedere una cosa che non è scontata ovvero c'è una guarnizione di gomma che serve per evitare appunto la fuori uscita dell'acqua quindi è veramente ben fatto questo si avvita potete appunto mettere l'acqua del vostro animale da compagnia e portarvela in viaggio veramente un prodotto carino compatto essenziale ve lo consiglio link in descrizione di amazon se avete domande non esitate a porvere